di Carbonara di Nola, salve le definitive decisioni del Consiglio, i seguenti nominativi. Per la lista numero 3, uniti per Carbonara di Nola, collegata con il candidato programmato eletto sindaco, alla quale aspettano sette seggi, i seguenti signori, Raffaele Albano. Giuseppe Gianluca Santorelli, Bonofio Sepe, Salvatore Maffettoni, Salvatore Aschettino, Antonio Sorrentino, Vincenzo Sepe. Nella lista numero 1, avente il contrassegno Carbonara insieme, alla quale aspettano i due seggi, il signor Paradiso Michele, candidato alla carica di sindaco non eletto, nonché il signor Nunziata Francesco. Nella lista numero 2, avente il contrassegno futura del genio sindaco, alla quale aspettano seggi 1, il signor D'Argenio Francesco. Nuo risultato eletto. Detto ciò, possiamo liberare. Auguri!